E benvenuti ragazzi sono il Gino Bianca e sono qui oggi a portarvi quello che è la sfida della mappa del tesoro di questa settimana qua ovvero segui la mappa del tesoro trovata a Flash Factory Raga sui la soluzione si trova, spero due secondi che ve la mostro ma prima raga vi ricordo che se volete che vi segua su Instagram basta che semplicemente condividete questo video nelle vostre chat di Whatsapp vi mandatelo a scrivere nei direct e io vi seguirò su Instagram ricordo raga inoltre di arrivare a 50 likes e nulla raga direi che possiamo partire allora raga come sapete già dovete semplicemente trovare la mappa del tesoro che è questa qua che vi sto mostrando esattamente adesso vi ricordo di lasciare anche un bel like ozzo ragazzuoli vi ricordo inoltre che la potete trovare esattamente dove vi ho pingato in questo momento qua si trova fuori Fall of Fails ovvero lande letali per voi italiani perché per chi non lo sapesse io sono americano comunque raga basta semplicemente che lo troverete qua se non la trovate qua vi lascio qua il commento sotto il punto esatto dove la troverete ma dovrebbe essere al 95% lì poi nel caso non fosse lì come ripeto sempre nei commenti trovate la soluzione noi raga direi che possiamo lasciarci e ci bicchiamo direttamente al prossimo video ciao 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 ciao